Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca torniamo a parlare del maxi colpo a bomba frazione del comune di Cavriglia dove una banda di ladri ha svaliggiato la pelletteria Ares. Ammonterebbe dunque a 400.000 euro il valore della refurtiva. Oltre 400.000 euro a tanto ammonta la stima della marcia rubata nello scorso fine settimana alla pelletteria Ares nella zona industriale di bomba frazione alle porte di Cavriglia. Un colpo studiato nei minimi dettagli è messo a segno da una banda organizzata che è riuscita a portare via nel giro di appena 3 minuti 400 borse di marchi importanti. All'ingente Bottino poi si sommano i danni che i ladri si sono lasciati alle spalle qualche migliaio di euro. Per introdursi all'interno dell'azienda la banda infatti ha sfondato il cancello d'ingresso con un mezzo rubato dopo aver chiuso le strade di accesso con due camion, anche questi trafugati. Ma l'ammontare del furto poteva essere molto più ingente se non fosse stato per il passaggio sul posto di un autobus di linea che ha spinto i ladri ad accelerare la fuga. Il pulman della Maddì è passato, ha trovato la strada sbarrata da due camion, due camion di movimento terra qua in fondo. Giustamente dice qui succede qualcosa. I signori si sono visti fortunatamente per noi un attimino a volto scoperto ed ecco che hanno preso il possibile e sono venuti via altrimenti non so che sarebbe successo ben di peggio. Nemmeno il tempestivo intervento delle forze dell'ordine è riuscito a fermare l'operazione. Allora al rivo la banda si era già data alla fuga attraverso le strade bianche che si trovano all'interno dell'ex miniere Enel. Le indagini per risalire agli autori del furto vanno avanti da parte della compagnia dei carabinieri di San Giovanni. Non è da escludere che sia la stessa banda che a fine febbraio aveva tentato in vano di portare via alcune borse in un'altra pelletteria nel comune di Castelfranco, Pian Disco. Il modus operandi è sempre lo stesso, è sempre lo stesso, quindi pensano che le persone siano le stesse. Il problema è che ancora non hanno un volto e questo ci turba. Un incidente stradale invece ieri sera in Valdichiana. Un trentenne è rimasto ferito ed è stato soccorso in codice giallo. È successo a Manciano, a Castiglion-Fiorentino, l'uomo si trovava in bici lungo la strada quando è stato investito da un'auto. Sul posto i sanitari dell'emergenza urgenza e le forze dell'ordine per i rilievi di legge. Sulla 1 Milano-Napoli invece per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 15 alle 6 di sabato 16 marzo sarà chiusa la stazione Valdarno in uscita per chi proviene da Roma e da Firenze. E adesso passiamo all'economia e crisi nera per l'industria toscana della moda in tutta la regione Arezzo, l'unica isola felice. È un periodo di crisi nera per la moda toscana. A certificarlo è l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, l'IRPET, nel suo ultimo rapporto. In calo la produzione e le esportazioni di conseguenza anche la domanda di lavoro sono invece in aumento. Le domande di cassa integrazione. Arezzo si distingue però per alcuni dati positivi realizzati soprattutto nei primi due trimestri dell'anno. È un lieve calo a partire dal terzo trimestre del 2023. Valori relativi in particolar modo all'esportazione che fanno chiudere il 2023 con un segno positivo. L'abbigliamento nel primo trimestre ha segnato un più 13%, nel secondo più 8%, nel terzo ha visto un calo dell'1%. La media annuale resta comunque positiva. Per quanto riguarda le calzature, il primo trimestre Aretino ha visto un balzo del 30%, nel secondo c'è stato un aumento dell'1% e nel terzo le esportazioni sono nuovamente decollate con un più 19%. Più difficoltà nel settore della pelletteria, da un inizio del 2023 con una crescita del 36% al meno 6% dell'ultimo trimestre. L'andamento è chiaro anche se alla fine il bilancio mantiene un positivo più 9%. Alla vigilia della cabina di regia della regione toscana con Trenitalia RFI, alla quale domani parteciperanno anche i sindaci del Valdarno, Aretino e Fiorentino, i consiglieri regionali del PD Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Lobertis evidenziano come c'è stato un aumento dei treni alta velocità a penalizzazione del traffico regionale. La linea Firenze-Roma dichiarano presenta una situazione insostenibile, serve un grande sforzo da parte dei gestori e del governo, abbiamo bisogno subito di un salto di qualità nella gestione degli incroci tra tutti i regionali e i treni alta velocità. E in tempi rapidi progetti di investimenti per interventi infrastrutturali importanti per andare verso il raddoppio dell'attuale infrastruttura nel tratto tra Figline e Firenze. E adesso parliamo invece di violenze sugli operatori sanitari, sono dati allarmanti quelli dell'Asla Toscana Sud-Est, l'azienda adesso aderisce alla giornata di educazione e prevenzione. Da 228 a 452 sono quasi raddoppiate le aggressioni segnalate dagli operatori sanitari all'Asla nell'ultimo anno, ad Arezzo 235, a Grosseto 133, a Siena 84. Numeri importanti e inaccettabili diffusi in occasione di quella che dal 2022 è diventata la giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari, il 12 marzo. La giornata per le aggressioni al personale sanitario è una giornata importante. L'azienda Toscana Sud-Est è fortemente impegnata a adottare tutte le politiche per la prevenzione attiva e pressiva dei propri professionisti. È inimmaginabile che nei confronti di un operatore sanitario, medico, infermiere, osso, tecnico, si possa esercitare violenza fisico-verbale, proprio nel momento in cui questo professionista sta garantendo la tutela della salute. Nella ASL Toscana Sud-Est l'incremento notevole può essere spiegato in parte con la recrudescenza del fenomeno, ma in parte anche con una maggiore consapevolezza da parte degli operatori stessi, che quindi fa emergere il fenomeno. Nei confronti di questi fenomeni abbiamo alzato il livello di guardia, anche attraverso un'azione di accompagnamento dei professionisti nei passaggi, nelle relazioni conseguenti al fatto, sia in termini di supporto psicologico, sia in termini di supporto legale, per poter vedere riconosciuto il diritto leso in ogni sede. Il 15 marzo invece si celebra la giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, per sensibilizzare la popolazione sul delicato tema dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Numerose le iniziative nell'ASL Toscana Sud-Est con eventi in tutte e tre le province. Ad Arezzo, al campus universitario del Pionta, in programma un incontro con gli studenti delle scuole superiori che hanno aderito al contesto salute mentale, gli studenti del corso di laurea Scienze della Formazione. A conclusione una flash mob degli studenti del liceo artistico coreutico Piero della Francesca. Il comune di Arezzo invece illuminerà di viola il monumento in memoria di Francesco Petrarca. E comunque ci saranno iniziative anche in tutte le vallate aretine. A Sansepolcro invece, in occasione delle fiere di mezza quaresima, l'ASL allestirà un punto informativo per rispondere alle domande sul pronto badante per dare indicazioni e informazioni sul servizio di sostegno rivolta alle persone anziane nel momento in cui per la prima volta si presenta una situazione di fragilità. La zona distretto Valtiberina ha previsto spazi ed orari presso i centri sociosanitari e le case della salute e un operatore il 14 e il 15 marzo dalle 9 alle 13 sarà presente alle fiere di mezza quaresima a disposizione dei cittadini. Torniamo adesso in città per parlare dei giardini dell'anfiteatro ormai sbarrati da mesi per la manutenzione straordinaria alle alberature dopo un crollo. Per la riapertura si dovrà attendere probabilmente settembre. Siccome abito vicino ogni tanto ci passo, guardo se c'è qualcuno a fare dei lavori ma per ora non ho mai visto nessuno. Sono ormai sbarrati da mesi i giardini dell'anfiteatro. Ci scusiamo per il disagio, stiamo lavorando per la vostra sicurezza. Quanto si legge in questo cartello all'ingresso ormai sbiadito? La chiusura lo scorso 20 luglio a causa della caduta di uno dei pini che si trovano nel giardino che ha imposto per ragioni di sicurezza l'interdizione del parco ai cittadini. Dovrebbe essere tenuto meglio e poterci passeggiare tutto qua. I giardini sono di competenza del Museo archeologico Mecenate. Era stato così incaricato uno specialista per valutare lo stato di salute delle piante. Ne è emerso un quadro desolante. Molte non sono in buone condizioni, sono pericolose e dovranno essere abbattute. Un intervento da decine di migliaia di euro. Risorse che saranno adesso reperite tramite la direzione regionale dei musei attraverso un finanziamento ministeriale che investe proprio sui parchi. Le città hanno il loro buono e il loro meno buono. Arezzo devo dire che è migliorata molto negli ultimi anni. C'è da fare qualche ritocco come questo. Ci piacerebbe restituirlo in tempi rapidi a cittadini e turisti. Per questo stiamo valutando anche altre possibilità, fa sapere la direzione. Ma è probabile che andremo oltre l'estate, forse settembre. Soprattutto d'estate le persone anziane, i bambini al fresco, venivano a giocare qui. Era un punto di ritrovo, proprio praticamente in centro. Rassa invece ha aperto il parco archeologico al quale si accede con l'ingresso al museo. Una raccolta solidale a favore dell'EMPA per portare un contributo al canile comunale di Arezzo. L'iniziativa è promossa dall'Istituto Madre della Divina Providenza dei Padri Passionisti di Agazzi e rientra tra le attività condotte da Start, il servizio di riabilitazione per la disabilità intellettiva con la finalità di sviluppare occasioni di incontro e inclusione sociale con il territorio. Ogni cittadino potrà aderire a questa raccolta entro sabato 23 marzo consegnando coperte, indumenti di lana, alimenti per cani e gatti, confezioni di rettieri e tappeti che verranno poi interamente donati per l'accoglienza e il benessere degli animali ospitati in canile. Cambiamo argomento. Questo appena trascorso è stato il secondo fine settimana del Festival dello Spirito in Cattedrale, un concerto indubbiamente unico con 500 coristi. Eccomi, eccomi, signore, io vengo... Quasi 500 coristi di oltre 30 formazioni hanno riunito le voci in una produzione unica nel suo genere. Il secondo fine settimana del Festival dello Spirito ha infatti trovato il proprio filo conduttore nella musica intesa come strumento di espressione e condivisione della parola con un concerto in Cattedrale diretto da Monsignor Marco Frisina. Gente che viene da esperienze diverse, corali, da paesi diversi, da luoghi diversi, ma la musica può riunirli. Questo è il miracolo che può fare la musica. La musica può unire cose diverse, lontane, sconosciuti che si incontrano per la prima volta perché riesce a amalgamare ciò che normalmente altre cose non fanno. Ed è... la musica credo potrebbe aiutare il mondo a unirsi. È davvero un evento straordinario che dice la partecipazione delle nostre comunità, delle nostre parrocchie, ma dice la vitalità che c'è nelle nostre comunità riguardo alla musica sacra. Il Festival dello Spirito, organizzato dal club Serra Rezzo, ha in programma un intero mese dedicato alla diffusione della cultura della fede e all'importanza della riscoperta della vocazione personale. Proiettato verso gli ultimi due fine settimana, tra sabato 16 e sabato 23 marzo, proporrà un ciclo di iniziative tra arte, teatro, cinema, letteratura e comunicazione. Ci siamo ritrovati soli, in assenza di risposte, quindi piano piano le persone hanno cominciato a porsi domande. E allora un festival come il nostro probabilmente non ha le risposte giuste, ma pone domande, crea luoghi in cui poter riflettere attraverso l'arte, attraverso il dialogo, attraverso la parola. Poi c'è chi gli darà come nome Dio, c'è chi lo chiamerà spiritualità, chi lo chiamerà etica, ma sta di fatto che viviamo in un momento di vuoto e allora viene forte il desiderio di riempire questo vuoto. Il 16 marzo prende il via invece con divisa rassegna culturale dedicata ai temi di genere, parità e inclusione che vedrà diversi eventi ospitati fino alla fine di maggio presso il circolo Arci Aurora di Piazza Sant'Agostino. Una successione di appuntamenti che sono anche progetto di attivismo collettivo con il quale le realtà organizzatrici intendono coinvolgere un pubblico trasversale e riportare il dibattito politico declinato in forme diverse di rappresentazione al centro dell'interesse cittadino. Arezzo Wave invece è pronta a sbarcare in America per promuovere la musica italiana, la città di Arezzo e la regione toscana con le sue eccellenze. Mauro Valenti è pronto a sbarcare in America portando con sé gli artisti di Arezzo Wave, Pique Jax, Fuscada, Frida Bollani-Magoni e Big Mama. Arezzo Wave in Los Angeles è infatti l'evento che promuoverà la musica italiana, la città di Arezzo e la regione toscana con le sue eccellenze. Perché abbiamo vinto un bando del Ministero della Cultura e della SIAE e con questo bando portiamo quattro dei migliori artisti vedete qui a Los Angeles il 17 e il 18 di marzo in un mega festival enorme che si chiama Muse Expo noi abbiamo due serate, una delle quali faremo oltre che presentare questi artisti e andremo anche a presentare le eccellenze del nostro territorio. In quella situazione il console generale italiano, quindi la massima figura dell'Italia a Los Angeles Raffaella Valentini presenterà i saluti, porterà i saluti a tutti i vari invitati e poi ci sarà anche l'istituto di cultura di Los Angeles e anche l'istituto di commercio estero con la regione toscana e con quindi tutti quelli che sono i nostri amici presenti a sostenere la musica italiana che cerca di entrare in America. Il Comune di Arezzo non c'è, peccato, io sono a Rettino e mi fa piacere poter portare il nome di Arezzo in giro come facciamo, purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di avere una risposta di coinvolgimento da parte del Comune. Partono le iniziative per il 470esimo anniversario dalla battaglia di Scannagallo Primo appuntamento fissato sul calendario è per sabato 16 marzo quando alle 17.30 il Tempio di Santo Stefano della Vittoria di Pozzo della Chiana ospiterà un incontro dal titolo La battaglia di Scannagallo, racconto di un'esperienza etnografica con studiosi e docenti universitari sul contributo delle rivocazioni storiche per tutela, promozione e valorizzazione della cultura di un intero territorio. E adesso la pagina dello sport, ieri a Coverciano è stata presentata la settima edizione del Gran Galà dello Sport Città di Castiglione, Fiorentino Gli atleti, gli allenatori sono dei testimoni, sono degli esempi, soprattutto per i giovani e loro hanno una grandissima responsabilità di dare appunto un esempio positivo Per questo noi ci sforziamo, il Gran Galà dello Sport, il Premio Fair Play, per quello che può fare ci sforziamo di dare un esempio positivo Da Tiago Motta a Gianni Bugno, da Andrea Gianni ad Andrea De Marchi, passando per Enrico Chiesa, Efrem Calamati ed Enrico Del Prato ed ancora Giacomo Corona, Alberto Polverosi e il castiglionese Gioele Meoni Sono loro i dieci numero uno della settima edizione del Gran Galà dello Sport presentata nell'Aulamagna del Centro Tecnico Federale di Coverciano Qui siamo nel Tempio del Calcio, il Gran Galà non celebra solo il calcio, celebra lo sport in generale celebra dieci personaggi ispirati a dieci discipline diverse che rappresentano un po' anche l'emblema della visione dello sport nella nostra città ma direi anche una importante estrazione di quelle che sono le caratteristiche dello sport in Italia L'appuntamento è per il prossimo 25 marzo al Teatro Spina pronto ad accogliere le stelle dello sport appremiate per i valori che hanno sempre rappresentato dentro e fuori il campo da gioco Il rispetto, l'eticità, il sapersi comportare, il sapersi interfacciare con gli altri cercando di essere i migliori, cercando di arrivare primi, di fare più gol come si diceva ma farlo con Fair Play Novità dell'edizione di quest'anno, l'istituzione del premio giornalistico intitolato al ricordo del fiorentino Mario Sconcerti ad aggiudicarselo sarà il giornalista Alberto Polverosi Questa è stata anche una precisa volontà della famiglia Sconcerti che ha individuato in questo giornalista il premiato di quest'anno Gioco e Fair Play saranno anche il cuore del secondo appuntamento della rassegna Alga Family Day Sabato 16 marzo alle 5 proseguono infatti le iniziative dedicate alla famiglia promossa da Alga Atletica Arezzo con un pomeriggio scandito attraverso due momenti Prima sarà presentato il progetto delle carte etiche dello sport a cura di Panathone Club Arezzo e Comune di Arezzo Poi previste mini olimpiade rivolte a genitori e figli La manifestazione sarà ospitata dallo stadio di Atletica Tenti Questa per stasera era l'ultima notizia Vi ringrazio per l'attenzione Arrivederci